Musica Prosegue l'impegno della WISP come ente di promozione sportiva e sociale all'interno del carcere di Pesaro l'ultimo intervento riguarda la sezione femminile. Pierpaolo Rivalta Oltre il cancello di ferro un altro mondo, dignità, diritti, umanità non sempre sono garantiti in carcere. Tra chi opera per superare le difficoltà c'è la WISP che nella casa circondariale di Pesaro ha appena concluso un intervento il recupero di un cortile interno per attività sportive nella sezione riservata alle carcerate. Attraverso questa donazione passa un messaggio fortissimo di prendersi cura della persona e quindi di far leva sulla dimensione sportiva dell'attività sportiva. Considerate che anche l'ordinamento prevede che la permanenza all'aria aperta per cui questo locale progettato sia destinata principalmente all'esercizio dell'attività fisica. Quella di Pesaro è l'unica sezione femminile nelle Marche. A titolo gratuito l'impresa Far Costruzioni ha restaurato i muri e realizzato un pavimento antiurto a impatto ambientale zero. È da 20 anni che siamo qui alla casa circondariale di Villa Fastigi con il calcio inizialmente, con il corso arbitri, abbiamo fatto anche delle gare interne. Adesso negli ultimi anni ci siamo concentrati sulla sezione femminile che sono 21 ragazze e con la ginnastica e la palla a volo. Anche a Pesaro ci sono problemi di sovraffollamento e qui come altrove la UISP prosegue la sua battaglia con i suoi strumenti. Lo sport è come diritto, lo sport è come strumento di socialità ma soprattutto lo sport ormai riconosciuto dalla Costituzione, riconosciuto nel suo valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico delle persone.